Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Si chiara passa? Faccio un glifa che stai avutato… si sono un uomo se è un uomo se sei un uomo se sei un uomo se sei un uomo se sei un uomo non so se sei un uomo grazie appreciate you guys for watching today uh chat i just got news today by the way that design is done trial and he's probably staying with DSG so design is no longer an option we have to find somebody else we don't have many options left so we'll have to figure it out, i don't know what we're gonna do yet but uh well see you guys tomorrow night everybody i don't know what we're gonna do yet this week we will be potentially trialing some people um nothing serious we've already talked as a team about stuff we might be I don't really know at this point what's gonna happen um I'm I'm probably gonna be scrimming with other teams so I don't even I'm not even gonna be scrimming uh with with Noct anymore he you know it's unhealthy for the esport it's you know super team blah 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 but you know respectfully there's been a super team since the beginning and it was TSM but nobody fucking said it so respectfully super team has existed since the beginning of the fucking game has came out so first of all let's see if I hit it if I hit it it saves me oh my dude the movement texture saved my life oh my the movement texture saved my life and let me kill that guy holy team 運営する側にも入れるの 知らねえよそんなのはよ うるせえ ごちゃごちゃ言ってくんじゃねえよ てめえ なんなんだてめえはよ うるせえ 黙って見とけよ じゃあ なんか意見があるなら 見んじゃねえよ 怒んぞてめえ ไه なっちゲーム なっちBalle てめで 뒷 上の食べ物だって 総 care ok io farti ho fai tu attenzione hope you enjoyed the fucking handshake hope you enjoyed the handshake hope you enjoyed the handshake hope you got your circle jerks I literally knocked the one I literally I got champion totally it's funny I got champion Noi Noi Chiamato 20 minati Noi Mi sono troppo緊 L'impasto Chiamato Il rosa Voi altri Voi tutti Voi I' comfortanza L'efficina Voi Ok Ha 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 ha. Un person spazza un due, spazza un due, a stanza spazza un due. Il suo problemauchtamente non è bene. The ring è chiicl lipsa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. He fatto un po' di giù, non lo so mi fa' . Sì, c'è un nuovo cavolo, c'è un nuovo cavolo, c'è un nuovo cavolo. Sì, c'è un nuovo cavolo, c'è un nuovo cavolo, c'è un nuovo cavolo. Sì, c'è un nuovo cavolo, c'è un cavolo, c'è un cavolo, c'è un cavolo, c'è un cavolo. Sì 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 Sì